oggi è il 29 luglio 1981 matrimonio fra il principe Carlo e Lady Diana Spencer 1983 ucciso a Palermo il giudice Rocco Chimnici 1958 Stati Uniti il congresso istituisce la NASA commenta il fatto del giorno Pierfrancesco De Robertis editorialista Umberto I in vacanza a Monza viene ucciso dall'anarchico Brescia